sempre qui dal centro sportivo Maracanà secondo tempo della sfida fra Inter e Fenerbahce valevola per il quinto turno di Champions League girone B c'è una porzione importante di semifinale che si gioca stasera con il risultato finora cristallizzato sul segno X uno ad uno sorprendentemente Fenerbahce in vantaggio poi ha recuperato l'Inter che secondo tempo ci dobbiamo aspettare Giorgio? Beh sicuramente viste anche le due squadre le posizioni in classifica un secondo tempo sbilanciato entrambe le squadre cercheranno di portare a casa la vittoria adesso vediamo il Fenerbahce con Minore che è stato bravo ma attenzione al contropiede contropiede pericolosissimo Russo chiudono bene la linea di passaggio Santella e Granata un'opposizione intelligente alimenta poi a sua volta per Napolitano non si presenta puntuale Silvestri e Prisco può disinnescare palla ad esposito che come nel primo tempo ritorna nel quintetto titolare Russo punta Santella libera il destro non va tanto in precisione poi una gran spazzata difensiva del numero due sicuramente uno fra i migliori difensori dell'intero trofeo Jack papabile candidato al trofeo al palone d'oro scusate ennesima novità di questa fantastica organizzazione che premierà al termine del campionato il miglior calciatore della serie e delle coppe europee con il titolo di del pallone d'oro sabatino russo ancora lui in avanti serve bene ad inolfi qui granata uscita kamikaze sempre molto aggressivo anche a costo di abbandonare lo specchio di porta si forse è proprio la chiave del gol del parigio dell'inter ricordiamo lo russo da casamento arriva il gol arriva il gol c'è la doppietta di marco ad inolfi ci sono anche gli improperi nei confronti del gemello matteo entra in campo il numero 9 fa danni riporta in vantaggio l'inter un calcio d'angolo abbastanza scolastico difesa del fenerbahce impreparata è poco da dire giando qui è stato lesto marco ad inolfi ad approfittare della defiance turca stavo completo il discorso sul gol del pareggio un granata forse che troppo offensivo anche in questo momento prova con la superiorità però guarda ha fatto partire un buon tracciante per un compagno di squadra che però non è stato fortunato nello stop intanto esposito in opposizione a silvestri la doppia di marcatura ai danni del numero 12 che esce bene dai blocchi serve mazzocchi russo tutto solo se la porta sul destro lascia un paio di avversari ancora russo non prova il tiro anzi temporeggia serve pezzerella che non ci pensa più di un millesimo di secondo arriva la deviazione di granata e c'è il legno colpito da pezzerella poi una spazzata furbesca di santella tuttavia accusa ancora dei piccoli dolori sembra accomodarsi all'esterno del terreno di gioco non è al 100 per cento santella il fenerbahce rischia di proseguire il match in inferiorità numerica potrebbe segnare la svolta del match assolutamente si ricordiamo che in questo momento il fenerbahce è in svantaggio 2 a 1 il punteggio e l'inter a gestire la partita sarebbe un dramma per sarebbe un dramma mentre qui attenzione minore ha regalato una bella parabola ai numerosi presenti qui al maracanà sì minore forse il tiro più pericoloso è stato in questo frangente che ha restituito la sfera per il resto scelte un po' sbagliate di quelle del numero 5 che ha tentato tiri impossibili quando era il caso magari di servire un compagno meglio piazzato napolitano serve granata che prova l'imbeccata in profondità sembra parlare un altro linguaggio l'estremo difensore turco ha delle idee molto interessanti ma non viene seguito al meglio da parte dei compagni di squadra russo ritmi che si sono notevolmente abbassati c'è gente che cammina in campo solo peccerella sembra non mollare un centimetro mazzocchi termina a terra qui la sfera poi termina in rimessa laterale mentre addirittura mazzocchi viene redarguito principalmente dal suo capitano che dall'arbitro e deve tranquillizzarsi qui davide mazzocchi sta giocando bene non ha bisogno di perdere la calma già ando però da dire che questo denota molto attaccamento sia alla squadra che alla partita anche esposito qui perde la sfera santella qui gioca da terra esposito comunque prova ancora ad andare in profondità troppo soli i calcettissi dell'inter e qui spreca un mezzo match point esposito poteva concludere in modo più felice Fenerbahce che resta a galla granata ancora lui che si invola serve un compagno lo specifico santella ma se le ritrova tutte sul destro lui che è un mancino killer Palla Silvestri che suona la carica prova a chiamare l'ordine suoi si invola temporeggia guadagna un fallo sempre molto intelligente il numero 9 del Fenerbahce ebbè Giando è un piacere vedere giocare Mario Silvestri che questa sera mi sembra veramente in forma non che le altre partite abbiano un rendimento basso anzi qualità e quantità al servizio di una squadra che sfortunatamente questa sera presenta solo 5 effettivi Intanto proprio Silvestri ha provato la conclusione sorprendente questo schema del Fenerbahce ci aspettavano tutti il tiro di Santella qui si lascia ingolosire dall'opportunità esposito l'opportunità della marcatura ovviamente Palla che torna al Fenerbahce brutto passaggio di Silvestri che inguai ai suoi Pecerella per Mazzocchi Mazzocchi e ancora lui che ci succede di tutto si immola Silvestri poi ci mette le mani Granata con uno scatto felino davvero una gran prestazione fra i pali di Granata gli manca solo il gol per tante le volte che sale in avanti qui Silvestri intelligentemente manda fuori i giri l'avversario non è fallo qui c'è stata tanta bravura da parte del numero 9 che però getta tutto alle urtiche servendo in modo precipitoso Santella che al netto dei recenti acciacchi fisici sta praticamente giocando da fermo resta la potenza del suo sinistro ma va imbeccato in determinati modi ancora Inter che conduce questa gara col punteggio di 2 a 1 una singola lunghezza di vantaggio mentre Mazzocchi semin avversari Napolitano poi la spazza addosso ad Esposito che anche in questo caso manca l'appuntamento col gol Palla al Fenerba c'è con Silvestri che prova a servire Santella diciamo che la palla la palla ha passato un paio di secondi bruttissimi esigiando un contrasto clamoroso sono stati entrambi bravissimi ti cedo la parola Sì Granata qui esce di gran carriera tuttavia lo specchio di Porta è totalmente scoperto e anche in questo caso la golosità non premia i calcettisti dell'Inter che peccano di gola dicevamo per concludere il discorso mentre ancora Santella in avanti qui manca l'appuntamento minore la palla termina rimessa laterale c'è time out per terminare il discorso rinominato Civil War il contrasto tra Santella del Fenerbace ricordiamo un tiro potentissimo il suo destro dinamite dall'altra parte Sabadino Russo che giustamente abbiamo già annunciato prima uno dei possibili uno dei papabili alla vittoria del premio del pallone d'oro quindi due ottimi elementi due grandi giocatori entrambi gioco maschio senza pietà alla ricerca del vantaggio del possesso del pallone il pallone ovviamente ne ha avuto la peggio tanto prima è passato dalle nostre parti il bomber Lucio Pastore ci ha salutato porta con sé un borsone innovativo costituito da una shopping bag piuttosto che utilizzare i canonici borsoni da calcio sempre avanti nel campo come nella vita bomber pastore intanto riprendono le ostilità parziale finora maturato di 2 a 1 a favore dell'Inter contro il Fenerbace Nelbace che potrebbe fare meglio ma finora i tre punti stanno navigando nelle tranquille nonché controverse acque dei navigli ottimo break di Silvestri qui poi ancora un intervento monumentale di Russo ultimo baluardo minore che ricaccia gli avversari in rimessa laterale Mazzocchi Cincischia ma riesce a servire Russo saggiamente la palla arriva a Peccerella ancora Russo mentre sale la pressione del Fenerbace Prisco 4 secondi in disposizione va subito in difficoltà arriva la smorzata di testa da parte di Adinolfi che centra un palo clamoroso ottimo gesto tecnico del numero 9 merita la miglior fortuna assolutamente sì è stato un piacere vedere Marco Adinolfi spiccare il volo su questa palombella ben segnalata da Michele Prisco col destro di prima intenzione ha servito il suo capitano che si è avventato su questo pallone come il miglior Luca Toni che ricordiamolo lascia il calcio giocato alla fine di questa stagione un peccato è stato un piacere rivedere in Marco Adinolfi un centro amante di tale livello come appunto il campione del mondo Luca Toni chissà magari l'anno prossimo Luca Toni calcherà i campi del centro sportivo Maragana è già solo solo seguendo video Nola si potrà scoprire questa novità vediamo intanto Silvestri accompagna all'uscita del campo la sfera rimessa laterale con Adinolfi Toni che si produce in un pressing tutto sommato sfogliato Silvestri va in apnea serve poi intanto qui Russo riesce nel suo intento ci ha provato almeno una decina di volte ed ora che si è involato finalmente a porta vuota è riuscito ad insaccare gol del 3 a 1 che forse smorza del tutto l'età del Fenerbahce sono pienamente d'accordo mi dispiace in un certo senso essere d'accordo conti ma la partita sta dicendo questo è un Fenerbahce che ci prova molto attento alla fase difensiva ma quando si tratta di rincorrere l'avversario forse manca quella grinta quello sprint in questo caso Granata portiere ottimo elemento ricordiamolo un giocatore particolare in questo caso ha fatto una piccola gaff ha lasciato appunto terreno libero per Sabatino che ci ha provato più di una volta come giustamente hai sottolineato tu questa volta è andata bene tanto Fenerbahce che perde un po' la bussola adesso Silvestri prova a ristabilire le gerarchie in questa squadra dicevamo c'è anche un po' di nervosismo più che altro dettato dallo sconforto di un punteggio che non sorride ai turchi Pecerella qui riesce a rubare la sfera di avversaria di Nolfi per Pecerella che perde il tempo Granato Granata si invola uscita in scivolata da parte di Russo semplice fallo in seconda non ci è sembrato particolarmente cattivo Russo in questa situazione no anzi al contrario è stato anche pulito dal momento che il pallone ha terminato la sua corsa in fallo laterale ha scelto il giusto tempo ovviamente quando si tratta di scivolata il portiere in questo caso il portiere è stato colpito ma è stata colpita prima la palla quindi un fallo diciamo generoso c'è sempre gran clamore sulle scivolate qui ci ha riprovato Santella ancora di Nolfi con questa sua smorzata velenosa Silvestri gestisce ed allunga a favore di Santella che non ci arriva di testa a buon gioco Mazzocchi a tenere la palla in campo ci prova nuovamente Russo Minore poi si complica la vita e arriva il calcio d'angolo a favore dell'Inter con Pecerella che serve Mazzocchi buona la coordinazione non tanto il calcio ancora Fenerbahce con Silvestri che serve Granata marcato da Pecerella intelligente il numero 10 dell'Inter che nega l'opportunità del tiro a Granata Silvestri prova il suggerimento in profondità Silvestri ha un vistoso segno rosso all'altezza del gomito c'è sangue Già non l'abbiamo detto prima non è una partita per donnine questa qui grande grinta grande voglia di vincere anche se sfortunatamente il Fenerbahce pare abbia quasi finito la benzina anche Adinolfi ha un segno rosso sul braccio ma è semplicemente la fascia di Capitano intanto gran contropiede da parte del Fenerbahce qui Arcigno nuovamente Russo che gran difensore 3 contro 1 Adinolfi molto egoista in questo caso ma abbiamo apprezzato intervento bellissimo di di Russo intanto granata perde la testa si produce in marcatura come un difensore solo che lui è il portiere ed arriva la segnatura di Mazzocchi vedi Giando ci ci sono dei momenti all'interno della partita dove un giocatore pensa poco alla tecnica oppure alla qualità dell'intervento si butta un po' a Kamikaze forse se mi concedi se mi passi il termine giusto per evitare il gol si è opposto con tutte le sue forze in questo caso Granata ma la poca lucidità non gli ha concesso di completare un buon intervento vita facile per Russo tensione qui ancora Adinolfi che fa sedere a terra Granata torna però l'estremo difensore che nonostante tutto ha imbeccato una serie di parate interessanti in questa sfida c'è un calcio d'angolo tensione e pressione alta per l'Inter qui prova ad arrivare la sfera dalle parti di Peccerella ma se ne produce l'ennesimo calcio d'angolo con Mazzocchi sul punto di battuta palla ricapitata Russo che questo è un grandissimo gol questo è un gol molto bello da vedere un gol per Mazzocchi sull'imbeccata perfetta di Russo che ha fatto tutto il lavoro e si becca anche i meriti per questa segnatura Giandom ha coefficienti di difficoltà veramente molto alta dal momento che Russo posizione diciamo da terzino destro era ultimo Peccerella stava scalando per dargli possibilità di passaggio ma Russo senza paura ha saltato l'uomo con una facilità incredibile si è involato ha cercato il passaggio al centro ha trovato se non sbaglio proprio Mazzocchi o Adinolfi non so bene ma a prescindere dal protagonista da colui che ha messo a segno il gol è stata veramente un'azione bellissima confezionata da Sabatino Russo migliore in campo intanto cala il sipario mentre precedentemente Napolitano per poco non scalciava Silvestri dicevamo cala il sipario 5 ad 1 una partita che si sta accomodando su questo risultato sulla vittoria dell'Inter pochi spiccioli quelli che restano da giocare ormai è calcio d'estate perché sembra non esserci più possibilità di recuperare questo risultato da parte del Fenerbahce Inter ancora in avanti con Peccerella che prova la conclusione il mirino non è perfetto e manca la precisione per centrare lo specchio di porta minore qui marcato da Adinolfi c'è l'ottima chiusura di Peccerella che fa il suo sporco lavoro e lo fa bene riparte in contropiede serve Mazzocchi palla centrale per Adinolfi ma viene disinnescata da minore ripartono i calcettisti turchi Silvestri si fa murare la conclusione da Prisco poi Napolitano ennesimo tiro sbagliato della sua partita non ha mai inciso effettivamente su questa contesa Mazzocchi sombrero per servire Peccerella ancora Peccerella gestisce ottimamente la sfera palla centrale per Adinolfi qui poteva fare qualcosa in più il numero nove c'è il calcio d'angolo finora ha fatto molto male sui corner questa squadra ai suoi avversari minore prova a verticalizzare a favore di Santella lasciato troppo solo lì davanti in questa seconda frazione di gara partito bene il collettivo turco ma si sta sgretolando e sciogliendo come neve al sole ancora un'imbeccata centrale Adinolfi stramazza al suolo Silvestri costretto a rallentare la sua corsa sull'intervento scorretto di Peccerella granata per minore sta giocando da portiere Marco Di Nolfi intanto la gran parata di Michele Prisco che si allunga grandissimo intervento dell'estremo difensore Nerazzurro finora quasi perfetto ha subito una sola segnatura ancora contropiede per l'Inter russo tuttavia a causa della stanchezza si trascina la sfera in rimessa laterale Granata in avanti per Napolitano ci prova di tacco inefficace russo intelligentemente per Adinolfi che prova la conclusione ma viene scaraventata al suolo gran gesto agonistico ci è sembrato un normale contrasto di gioco ma ha accusato il colpo Marco Di Nolfi si è lanciato in questo urlaccio precipitando al suolo mentre altri in questo match le hanno prese e le hanno date senza fare particolari manifestazioni direi che su questo gesto potrebbero anche arrivare i titoli di goda a questa partita qui si gioca con i portieri volanti ormai russo ancora lui Azzocchi tutto solo termina a terra colpisce Granata direi che sia il caso di fischiare la fine di questa gara ormai beggiando questo spetta il signor Rofalco che già ha il fischietto in bocca quindi a breve finirà questa partita Inore prova un'ultima percussione prima di abbandonare il campo ancora Fenerbah cino avanti con Silvestri Santella pericolosissimo tre contro il nulla e non può fare a meno di segnare Peccerella 6 a 1 fischio finale tre punti all'Inter un Fenerbahce che magari poteva essere più ordinato guarda è partito bene il Fenerbahce è andato in vantaggio un po' anche contro ogni pronostico non è stato bravo a mantenere il punteggio l'Inter nel secondo tempo è dilagata ha approfittato degli enormi spazi degli errori difensivi concessi dalla squadra turca che pian piano sempre inesorabilmente ha finito la benzina e quindi ha lasciato spazio al divertimento nero azzurro nel girone B c'è un confronto al vertice che si porta avanti dalla prima giornata l'Inter chiama vediamo se Leverton risponde a quota 13 ricordiamo il punteggio finale Inter 6 Fenerbahce 1 dal campo agli spogliatoi adesso le interviste ai principali protagonisti di questo match abbiamo qui con noi due protagonisti della sfida appena conclusa stiamo parlando di Inter Fenerbahce terminata col punteggio di 6 a 1 abbiamo qui con noi Marco Adinolfi capitano di Nerazzurri e Michele Brisco estremo difensore della squadra di Milano passiamo subito la parola a Marco Adinolfi Marco una partita che è iniziata male ma poi con quel gol a fine a chiusura di primo tempo subito siete partiti col mordente giusto nel secondo e l'avete chiuso sì direi che i protagonisti sono altri i ragazzi che come al solito ci mettono la faccia il minore in campo ancora una volta Sabatino Russo ringrazio lui e tutto il resto della squadra come al solito Michele Brisco che doveva fare il secondo portiere sta facendo il primo io faccio il mio molti dicono che non gioco come Gaetano Iovino stasera ho voluto dare una risposta a lui a mio fratello che per un gol che ha fatto la settimana scorsa sta ancora festeggiando io sono un gregario di questa squadra sono il capitano ho un paio di strigliate soprattutto qualcuno un po' più caldo come Davide Mazzocchi è roba varia cerco di dare comunque il mio apporto spero di esserci riuscito anche stasera volevo segnare quel gol per fare l'assist a Michele Brisco li facciamo spesso queste giocate questa è la Davide comunque l'importante è vincere ah e poi devo superare Alberto Seve che tirava più gol di me in Champions League non era possibile quindi una partita una partita importante per mettere i puntini sulle I ma da sottolineare il collettivo di quest'Inter che ricordiamolo prima Braccetto con l'Everton ma almeno a distanza la vostra la vostra risposta c'è stata adesso aspettate l'Everton e poi ovviamente lo scontro diretto che tutti si che tutti si aspettano sì l'Everton sta giocando adesso contro il Trab non so se vincerà in caso di vittoria la dovremo affrontare noi settimana prossima sarà un'altra partita rispetto a quella che c'è stata all'andata quando loro erano rimaneggiati non siamo riusciti a vincere è un'altra Inter la vedo compatta ormai i ragazzi giocano insieme da parecchio all'inizio forse non mi dava l'impressione di poter vincere la Champions dopo stasera credo che quella coppa che stava al centrocampo si avvicini un po' di più alla squadra alla squadra nella scura secondo me se posso permettermi di fare questo pronostico voglio chiudere con Michele Prisco Michele nel finale una partita grossomodo gestita bene da parte tua ma anche da parte della difesa ricordiamo lo sabatino russo in grande spolvero questa sera ma volevo domandarti nel finale quel tiro deviato di Mario quel tiro di Mario un po' deviato tu hai avuto una grande reattività cosa hai pensato in quel momento? Ho pensato in quel momento proprio ho detto non posso prendere i gol tutti i ragazzi stanno facendo il proprio lavoro e ce la stanno mettendo tutta per portare un ottimo risultato quindi devo dare il meglio perché come ha detto Marco io sono partito da secondo e mi devo fare il primo portiere quindi devo essere all'altezza almeno ci provo e quindi con questa dichiarazione di intenti chiudiamo ricordando il punteggio 6 a 1 per l'Inter una bella vittoria per i Neri Azzurri